Ciao, sono Mohamed Ali Montaseri, sono autore e fotografo della mostra ESCATA. Ecco, sono qua per un po' parlare della mia esperienza come attore e come fotografo. Come attore tutti questi anni ho fatto 8 spettacoli e comunque sempre mi sentito bene, nonostante sempre i problemi, alla fine noi abbiamo fatto grandi spettacoli e sono contento di fare tutte queste esperienze che ho fatto. L'anno scorso abbiamo cominciato di fare una nuova esperienza, io come occhio interiore e con quello che sono capace, cioè la fotografia. La prima cosa, sono fotografo. Sono l'allievo di Federico Micioni, il quarto fotografo dell'Italia e sono molto onorato di avere un maestro come lui, come un fratello. Ecco, ho fatto tanti corsi e mi ha insegnato tanto, faccio i miei progetti, anche lavoro ovviamente, però ovviamente mi piace una cosa che, anche mi è piaciuto fare una cosa per i miei amici, come questo laboratorio, e fotografare da dentro, mostrare tutto quello che facciamo. Tutti questi momenti che voi non vedete, però io come da dentro, come una persona che vede sempre da dentro, vi mostro tutto quello. Condivido i miei pensieri, la mia visione. Ecco, tutto qua. Ciao.